La passione per gli animali è nata quando era ancora un bambino. Dopo la laurea all'Università Statale di Milano, il grande amore di sempre si è trasformato in professione e nel 2000 il dottor Paolo Zucchi ha aperto l'ambulatorio veterinario di Casal Pusterlengo per offrire ai nostri amici a quattro zampe un luogo di cura completo. Il dottor Paolo opera anche in laparoscopia. Grazie a questa tecnica l'intervento è eseguito con la massima precisione e gli animali possono riprendersi in fretta dopo l'operazione. Dal 2001 il dottor Paolo collabora con la dottoressa Maria Grazia Tagliaferri con cui condivide la stessa passione per gli animali e per il loro benessere. Nel 2015 entra a far parte della squadra la dottoressa Eleonora Spiranelli che si occupa in particolare di citopatologia. Nell'ambulatorio del dottor Paolo Zucchi i nostri amici trovano un ambiente amichevole e specializzato dove ricevere tutte le cure e gli esami necessari al loro benessere grazie anche alla collaborazione di molti specialisti. Per i suoi clienti il dottor Paolo è molto più che un veterinario, è un amico premoroso, sempre disponibile per un consiglio e una rassicurazione ed è forse per questo che i suoi pazienti, se potessero parlare, gli direbbero una semplice parola grazie